Ciao a tutti e benvenuti a Radio Telegiornale Ita con Silvia e Paola. Ti voglio regalare quattro mosche morte. Non cominciare, no grazie tienile tu. Ti conviene accettare, o prendo il ferro da stiro. Vedi di stare lontana o alla mazza da baseball qui vicino se continui te la ritrovi tra i denti. È una sfida. Prendi questo, anzi, aspetta che riscaldi il ferro da stiro che fa più male, o no giochi sleale. Ah sì, prendi questa. Alla schiena. Si è riscaldato? E come? Silvia, stirati. Paola lancia il ferro da stiro bullente sulla faccia di Silvia che diventa marchiata, ma lei non si arrende e la colpisce ripetutamente e ritmicamente, 10 secondi di pausa. Colpo di scena e entra Lara Croft dalla finestra. Paola, dammi il ferro da stiro che devo uccidere Natla. No mi dispiace, mi serve. No Paola, non ti serve. Daglielo. Dammelo. Ora. Non posso mai, sono stupida! Ok, è tutto tuo. Neanche un ferro da stiro può fermarmi, stupide. Natla ma sei diabetica? Quel ferro da stiro mi serviva per Silton Brider perché lo hai fuso? Bene, Paola dove è la mazza? L'ha rubata Lara. E ora dove è Lara? È andata un attimo al bagno che gli scappava. Se collaborerete con me avrete vendetta. No grazie ma Lara quanto ci mette? Dobbiamo fare a meno di Lara, dobbiamo indebolirla, mi è venuta un'idea. Paola torna due minuti dopo dalla casa di Silvia con una pistola in mano. Assicurati che soffra. Oh, com'è divertente. E vai prendi questo e questo. Portiamola dal macellaio. Silvia ma ti sembra il momento di comprargli una bistecca? Ma no Paola, pensa. Ah ok io ho capito, si 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 natela. Ti portiamo a fare una gita dal macellaio. Dopo 5 minuti Silvia, Paola, Natla e Lara che le raggiunge, arrivano dal macellaio. Bene Natla mettiti qui su questa pedana e non fare caso la scritta attenzione oggetti taglienti. Cretine siete in onda. Silvia ti uccido a mani nude. Se permetti lo faccio prima io con la motosega. Se la metti così, Lara danni la mazza da baseball. Cavolo la motosega è scarica. Luca, aspettatemi qui che vado a comprare un nuovo ferro da stiro. E tutto andò per il meglio, per quanto possa essere meglio con Paola nei paraggi. Luca diamine chiama me Paola. Ma siete tutti malati mentali che non lo riuscite a capire. E poi devo dire io la frase di chiusura. Ciao a tutti carciofi. E ricordate, non lasciate ma da sola una mazza da baseball nella stessa stanza con Lara.